Cari amici di Vox Italia TV, ormai la nostra vita è scandita dai DPCM del Premier Conte. Ogni settimana ne vengono fuori di nuovi, con delle restrizioni nuove, sempre spiegate come necessarie per contenere il diffondersi del coronavirus. Alcuni giuristi in passato avevano spiegato che questo stato d'emergenza non poteva prolungarsi all'infinito, perfino Cassese, che un tempo era molto amato dai criminalisti, è diventato un vecchio bacucco, appena ha messo in dubbio la legittimità di questi decreti. Per capirne di più abbiamo invitato oggi il professore di diritto costituzionale Daniele Trabucco, professore presso l'Accademia Libera dell'Università di Bellinzona. Grazie professore per essere con noi. Grazie, grazie Francesco. Un caro saluto a tutte le telespettatrici e telespettatori che vi seguono e che ci seguono. Bene, ormai ci siamo abituati a sapere che la legge è Conte, cioè Conte decide cosa si può fare e cosa no, disciplina le condotte legite e quelle illegite sulla base di una sua volontà di potenza. Ecco, magari all'inizio sulla base di un'emergenza che ha preoccupato tutti, in tanti non ci hanno fatto molto caso, adesso però l'emergenza sta diventando normalità. Sono costituzionali questi DPCM? Allora, il problema dal mio punto di vista è duplice. Allora, primo punto. Noi abbiamo soffermato la nostra attenzione in questi mesi, da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria a rilievo nazionale, su questi atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, protempore, attualmente in carica il Professor Avvocato Giuseppe Conte. Ma il vero problema non sono i DPCM, è il decreto legge, o meglio i decreti legge, quindi le fonti primarie, su cui questi DPCM si basano e si fondano. Nel senso che, a partire dal decreto legge numero 19 del 2020, per arrivare all'ultimo, quello sull'obbligo non solo di portare con sé ma anche di indossare la mascherina, e che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, mi riferisco al decreto legge del 7 ottobre 2020 numero 125, sulla cui base poi si è stato adottato sia il DPCM del 13 ottobre, sia quello modificativo del 18, in realtà pongono un problema nella misura in cui si utilizza uno strumento che dovrebbe contenere, appunto il decreto legge, delle misure immediatamente applicabili, proprio per fronteggiare una situazione di urgenza e di necessità, che preclude il ricorso alla via della legislazione ordinaria, a efficacia differita. Questa è una contraddizione in termini. Un decreto legge non può avere una attuazione differita, altrimenti vengono meno i presupposti su cui si fondano. Quindi questi DPCM, questi atti amministrativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno una loro base legale nei decreti legge, ma il problema è l'utilizzo sbagliato, o meglio l'abuso di questi strumenti, perché questi strumenti, per la loro natura, per come è in qualche modo strutturato il tipo di fonte, richiedono delle misure immediatamente applicabili. Proprio perché c'è una situazione di straordinarietà, di urgenza, di necessità, questi sono i presupposti su cui si fonda il decreto legge del Governo, funzionali proprio a adottare misure immediatamente applicabili, perché se la situazione non è urgente, non è necessaria, non è straordinaria, non ha neanche senso ricorrere al decreto legge. Un decreto legge che ha un'efficacia differita, che ha una sua attuazione, integrazione e addirittura in alcuni casi anche implementazione con atti amministrativi contraddice la natura stessa della fonte. Quindi dal mio punto di vista il vero problema sta nei decreti legge che attribuiscono questo potere ampio, discrezionale, in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che gli consente infatti di adottare questi atti amministrativi, i quali, vorrei ricordarlo alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, non sono sottoposti ad alcun controllo preventivo di legittimità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che vengono adottati dal Presidente del Consiglio, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore, o il giorno stesso o il giorno successivo. Quindi nessuno controlla il contenuto di questi DPCM. DPCM che in alcuni casi comprimono in maniera assoluta, in altri casi limitano diritti costituzionali, ponendosi al di fuori del circuito proprio di una democrazia rappresentativa, di una democrazia parlamentare. È vero che in occasione della conversione del Decreto Legge 19 del 2020 è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato, molto spesso il Ministro della Salute, attualmente Roberto Speranza, che appartiene al Partito Liberi Uguali, hanno l'obbligo di comunicare alle due Camere, quindi ai due rami del Parlamento, il contenuto dei DPCM, sollecitando il Parlamento ad esprimersi con delle risoluzioni. Ma attenzione, le risoluzioni sono atti di indirizzo politico, non sono atti giuridicamente vincolanti. Questo obbligo di informativa non va comunque, non dà la possibilità al Parlamento di poter modificare il testo del DPCM e con una maggioranza parlamentare assolutamente compatta, che sa benissimo che in caso di elezioni perderebbe il consenso elettorale, è ovvio che l'indirizzo politico che viene dato è sostanzialmente blindato. E comunque si tratta di atti che hanno una valenza appunto sotto il profilo, ripeto, meramente politico, ma non tali, queste risoluzioni del Parlamento da incidere sul contenuto del DPCM. La conseguenza per cui il Parlamento potrebbe anche esprimere un indirizzo contrario, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri non sarebbe tenuto a modificare il contenuto del DPCM. Si porrebbe un problema di responsabilità politica, ma non certamente di responsabilità giuridica. Chiedo scusa, questa è un po' la prima criticità che io vedo. C'è una seconda criticità, e cioè il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. Con tutto il rispetto che si può avere ovviamente per la massima carica dello Stato, io ricordo che questi decreti legge sono sì adottati dal Governo, ma sono, in base all'articolo 87 della Costituzione, emanati dal Presidente della Repubblica. Cosa vuol dire? Vuol dire che in occasione della emanazione, un po' come avviene quando il Presidente va a promulgare una legge, il Presidente, in base a una giurisprudenza costituzionale costante, deve esercitare sul contenuto del decreto legge un controllo, dice la Corte, con la sentenza numero 406 del 1989, di intensità almeno pari, queste sono le espressioni che adopera il giudice delle leggi, a quello che avviene in sede di promulgazione. Allora, davanti a una giurisprudenza costituzionale, sentenza 22 del 2012, ma confermata poi anche da pronunce successive, che prevede che il decreto legge deve avere delle misure chiare, omogenee, immediatamente applicabili, il Presidente si trova davanti a un decreto a efficacia differita, quantomeno dovrebbe utilizzare, almeno per una sola volta, il potere di rinvio al Governo. Certo, poi il Governo potrebbe riapprovarlo tale quale il Presidente della Repubblica sarebbe costretto a demanarlo, però darebbe un segnale non solo politico, ma soprattutto di garanzia degli equilibri costituzionali che in questo momento non c'è. Noi viviamo formalmente in uno Stato di diritto che conosciamo in quanto fondato sul principio della separazione dei poteri, eppure in realtà il nostro Stato di diritto sta diventando sempre più una finzione, perché i poteri dello Stato sono sostanzialmente allineati, il che è ovviamente pericoloso perché potrebbe, uso il condizionale, portare nel tempo con un consolidamento dell'emergenza a delle derive di tipo autoritario. Ovviamente nessuno auspica una cosa di questo tipo, però il rischio è che in nome della tutela della salute, in nome della biosicurezza, i cittadini siano disposti, lo scriveva molto bene Agamben, filosofo e saggista contemporaneo, ad accettare limitazioni e compressioni di diritti fondamentali facendo di fatto morire le democrazie contemporanee, i loro parlamenti e le loro costituzioni, perché queste costituzioni formalmente vigono ma di fatto vengono disapplicate. L'obiezione che viene mossa da alcuni costituzionalisti è che le Camere hanno la possibilità comunque di non convertire il decreto legge, è vero, però attenzione che innanzitutto sul disegno di legge di conversione il governo pone la questione di fiducia legittimamente, quindi blinde in qualche modo il contenuto del decreto, perché se le Camere non dovessero convertirlo a quel punto là, il governo avendo posto la questione di fiducia avrebbe l'obbligo di dare le dimissioni. Voi ve la vedete, la attuale maggioranza parlamentare non convertire un decreto legge con il rischio poi di aprire una crisi di governo di natura extra parlamentare con scenari ipotetici anche di elezioni. È ovvio che voteranno e voteranno sempre e comunque, e comunque il controllo che fa il Parlamento in occasione della conversione è un controllo che arriva in qualche modo con un testo già preconfezionato in cui le possibilità di modifica ci sono ma sono sostanzialmente limitate e quindi viene meno tutta la discussione della dialettica parlamentare. Un Parlamento che converte un decreto legge che attribuisce in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri Pro Tempore un potere così ampio che non è sottoposto a alcun controllo preventivo di legittimità, sì potremmo dire che viene rappresentata la finzione kelseniana della rappresentanza politica, però poi di fatto il Parlamento si autoesautora nel momento in cui attribuisce questo potere in capo a Conte. Professore, lei prima diceva che il problema è che saltano tutti i controlli, c'è un potere che non è più controllato da nessuno sulla scia di questa emergenza, ma paradossalmente se domani Conte dovesse prendere un colpo di sole e decretare che possono uscire solo quelli con i capelli biondi, il sistema non avrebbe più armi di difesa di fronte a una presa di posizione chiaramente stravagante? Il sistema ha delle armi di difesa anche adesso attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, è sempre possibile, siccome il DPCM è un atto amministrativo, è sempre possibile presentare un ricorso giurisdizionale davanti ai TAR oppure fare opposizione davanti alle sanzioni amministrative al giudice di pace, come giudice di primo grado e in quel contesto sollevare la questione di legittimità costituzionale proprio sui decreti legge e quindi fare in modo che la Corte si pronunci. Ancora, scusi se la interrompo su questo, perché nessuno ancora ha portato all'attenzione della Corte Costituzionale questi provvedimenti? Semplicemente perché i giudici non sollevano le questioni di legittimità, il corpo elettorale non può attivarsi da solo, quindi i singoli cittadini nel nostro ordinamento costituzionale a differenza di altri non possono ricorrere direttamente alla Corte, nell'ambito di un giudizio davanti al TAR, quindi davanti a un giudizio amministrativo, oppure davanti a un giudizio ordinario, davanti al giudice di pace, in opposizione a una sanzione amministrativa, in molti ricorsi è stato chiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità. Potrebbe farlo il giudice? Potrebbe farlo il giudice di sua iniziativa, ovviamente non è obbligato a farlo, il giudice fa una valutazione, lo può fare d'ufficio di sua iniziativa, lo può fare perché è richiesto dalle parti, però l'ultima parola aspetta il giudice e quindi se il giudice non lo ritiene, non ritiene la questione fondata e rilevante, non solleverà la questione, quindi non sospenderà il giudizio principale, quindi una possibilità di controllo rimane sempre attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria. Però è anche vero, come dicevo prima, che qui c'è veramente il pericolo di un allineamento di poteri perché, almeno da quanto mi risulta, fino ad oggi questioni in via incidentale davanti alla Corte non sono state sollevate e siccome la Corte non può attivarsi d'ufficio, cioè non può attivarsi di sua iniziativa, deve esserci un giudice, un giudice civile, un giudice penale, un giudice amministrativo, un giudice tributario, un giudice militare che in qualche modo sospenda il giudizio che prende davanti a lui e con un apposito atto che si chiama ordinanza di dimissione porti la questione davanti alla Corte, solo in quel momento, indicando poi gli articoli del decreto legge, gli articoli della Costituzione che il decreto legge viola, dal mio punto di vista il secondo comma dell'articolo 77. Solo a quel punto là la Corte può intervenire, però la Corte in qualche modo attivarsi d'ufficio non può farla, deve essere sollecitata dal giudice. È il controllo di costituzionalità che è previsto dal nostro ordinamento. Certo, un giudice può, davanti a un ricorso in opposizione a una sanzione amministrativa, un giudice di pace può annullarla, un giudice amministrativo può annullare un DPCM anche senza sollevare la questione di legittimità, perché ritiene ad esempio lui stesso che il DPCM si ponga in violazione di legge, quindi addirittura in violazione dello stesso testo costituzionale. Però è un'eventualità che finora non si è verificata, sia durante la prima fase dell'emergenza sanitaria, sia durante questa fase, che in realtà è sempre la prima fase prolungata, quindi non c'è stata di fatto una fase 2, tutti i ricorsi ai tribunali amministrativi regionali hanno sostanzialmente accolto in prima battuta, in prima istanza, l'impianto sotteso alle ordinanze regionali e ai provvedimenti del governo, in particolare del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi il problema è che un controllo c'è, successivo c'è, quindi manca un controllo preventivo ma c'è un controllo successivo, il problema è che questi giudici non hanno il coraggio, non hanno la forza, non lo so, o non ravvisano i presupposti per poter investire la corte del problema o entrare loro direttamente nel merito. Anche perché poi penso che entri in gioco anche un rischio morale, cioè cosa succede se io vado a annullare un DPCM e questo crea poi di fatto una situazione per cui aumentano i contagi e quindi di conseguenza… Insomma c'è un ricatto morale, dici un po', c'è un ricatto morale che può condizionare le scelte anche di uomini liberi e coraggiosi. C'è, c'è, assolutamente, assolutamente. Michele Ainis, che non è proprio un complottista, un negazionista e non scrive su dei fogli rivoluzionari, ma sulla Repubblica dei padroni, degli Elkan Agnelli, qualche giorno fa ha spiegato che sono state completamente invertite tutte le gerarchie delle fonti, cioè adesso dal più basso la gerarchia più bassa ha la meglio sulla gerarchia più alta e che questo stato di emergenza può durare per un tempo definito, mentre ha l'impressione che questo governo voglia far durare l'emergenza all'infinito. Cioè esistono dei limiti alla dichiarazione dello stato di emergenza o noi possiamo vivere dentro un'emergenza continua? Allora, la dichiarazione di emergenza, dobbiamo subito precisarlo, non è prevista dalla nostra Costituzione. A differenza di altri paesi, la Federazione Russa, l'Ungheria, il Regno di Spagna, la Francia, dove all'interno dei testi costituzionali è normata la dichiarazione di emergenza, per vari motivi, quindi anche sanitaria, l'ordinamento costituzionale italiano volutamente non l'ha inserita. Non l'ha inserita perché veniva fuori da un'esperienza che era quella del fascismo, c'era il ricordo dell'articolo 46 della Costituzione di Weimar del 1919 che nel 1933 aveva portato legalmente all'ascesa di Hitler e quindi del nazionalsocialismo e quindi si è preferito da parte dei costituenti non introdurre nel testo fondamentale del 48 un riferimento allo stato di emergenza. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che oggi lo stato di emergenza è normato a livello di fonte primaria, quindi di una fonte che è inferiore alla Costituzione. In questo caso è il Decreto Legislativo Delegato numero 1 del 2018 che è attualmente vigente, che è il Codice della Protezione Civile. Ora, l'articolo 24 di questo decreto prevede che la dichiarazione di emergenza sia deliberata dal Consiglio dei Ministri, quindi dalla componente collegiale del Governo, ovviamente di rilievo nazionale, sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, entra in vigore e il comma quinto vieta, preclude qualunque controllo preventivo di legittimità. Quindi il Parlamento non è coinvolto nella dichiarazione dello stato di emergenza. L'articolo 24 prevede anche una durata, una durata di 12 mesi prorogabile di altri 12. Qual è il problema di fondo? Che è stabilita una durata, è stabilito un termine massimo di 24 mesi, quindi di due anni. Però, come dicevo prima, questa disposizione è contenuta in una fonte primaria, non è contenuta a livello costituzionale. Quindi nulla vieta al Governo con un decreto legge o con un altro atto normativo avente forza di legge, ad esempio un decreto legislativo delegato su legge delle Camere, ma è più probabile un decreto legge, che si possa tranquillamente abrogare, barra modificare il termine e quindi farlo durare più a lungo. Il fatto di non aver costituzionalizzato lo stato di emergenza rende la sua durata, seppur limitata dalla legge, però nella disponibilità del legislatore. Una disponibilità che consente quindi di intervenire non solo con una legge ordinaria, una legge ordinaria che modifica il decreto legislativo delegato, perché sono tutte fonti pariordinate per i quali quindi sussiste il criterio cronologico, cioè se siamo sullo stesso livello della piramide delle fonti, la fonte di grado successivo, pariordinata a quella di grado precedente, la può modificare, la può abrogare. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non solo una legge ordinaria, ma anche un decreto legge, un domani, potrebbe tranquillamente aumentare la durata dello stato di emergenza, quindi portarla a tre a quattro anni, proprio perché, essendo normata a livello di fonte primaria, è molto più semplice con un atto di pari livello, pari ordinato, ad esempio con un decreto legge, sulla base di un presunto aumento di contagi, eccetera, di prorogare lo stato di emergenza. Il problema che si pone è un altro su cui vorrei far riflettere le amiche e gli amici che ci stanno seguendo. È vero che lo stato di emergenza sanitario, terroristico, non è normato in Costituzione, però una cosa è normata, cioè lo stato di guerra. La nostra Costituzione nella parte seconda, in particolare l'articolo 78, prevede l'emergenza più grave, la guerra, che fortunatamente non si è mai verificata, e prevede nello stato di guerra che sia il Parlamento a dichiararlo, quindi l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, che condivide con il governo l'indirizzo politico, che è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto dal corpo elettorale, è il Parlamento che lo dichiara e conferisce al governo, attenzione, non tutti i poteri, ma i poteri necessari. Allora qualcuno in dottrina, qualche autorevole costituzionalista, io personalmente mi ritrovo in questo tipo di pensiero, ritiene che se è vero che lo stato di emergenza, diverso dalla guerra, non è previsto in Costituzione, tuttavia il fatto che la nostra sia una Repubblica parlamentare, che abbia una centralità del Parlamento, e laddove c'è l'emergenza delle emergenze, quindi una guerra, il Parlamento abbia un ruolo centrale, viene da dubitare addirittura della costituzionalità del Codice della Protezione Civile, che nella dichiarazione di emergenza di rilevo nazionale esautora, esautora, ripeto il verbo, esautora completamente i due rami del Parlamento, Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Quindi dal mio punto di vista, alla luce della nostra forma di governo e tenendo conto del paradigma dell'articolo 78, dove se addirittura nella guerra che è nell'emergenza dell'emergenza il Parlamento è centrale, mi viene da chiedere come mai non lo sia in una dichiarazione di emergenza di rilievo nazionale per altri motivi diversi da una situazione bellica. Quindi, alla luce di queste due considerazioni, io personalmente ritengo sulla scia di altri costituzionalisti molto più autorevoli del sottoscritto, che ci possa essere un dubbio di legittimità costituzionale sulle modalità con cui l'attuale e vigente Codice della Protezione Civile disciplina e norma lo stato di emergenza che, ripeto per l'ennesima volta, esautora il Parlamento e lo affida a una deliberazione del Consiglio dei Ministri pubblicata in gazzetta senza alcun tipo di controllo preventivo di legittimità. Quindi capisci che c'è un arbitrio molto forte, molto ampio in capo alla componente collegiale dell'esecutivo. I cittadini sono portati a credere che il governo non sta esondando ai propri doveri, non si sta allargando perché un po' in tutta Europa tutti i politici responsabili prendono misure più o meno sovrapponibili. Ecco, ora si parlava anche della Svizzera, le insegne in Svizzera, del fatto che anche in Svizzera adesso tutti sono costretti ad andare in giro con la mascherina. È vera questa narrazione? È vero che un po' tutti i paesi dappertutto stanno seguendo l'esempio italiano? Conte è diventato un punto di riferimento internazionale, insieme a Speranza. Se Conte è diventato un punto di riferimento a livello internazionale c'è di che preoccuparsi, il che non credo che sia ovviamente un modello. Io l'esperienza che vedo in altri paesi è quella invece che sicuramente ci sono delle limitazioni, ci sono delle restrizioni, ma il Parlamento è sempre in prima linea, a svolgere un'attività di monitoraggio costante nei confronti dell'operato del governo, cercando di far sì che quelle limitazioni che sono doverose laddove c'è da tutelare la dimensione collettiva della salute, perché questo nessuno ovviamente lo mette in discussione, però siano in qualche modo delle limitazioni congrue, cioè che la misura di contenimento sia in qualche modo proporzionale rispetto al fine che si vuole perseguire. Ora, quando io guardo le diverse misure di contenimento previste nell'ordinamento italiano, mi trovo davanti il decreto legge principale, non è l'unico, ma è la fonte principale su cui si fondano tutti i DPCM, che è quello del 25 marzo 2020, numero 19, e mi trovo all'articolo 1,2, espressioni come limitazione o divieto delle riunioni, degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ma come? Limitazione o divieto? Perché non è la stessa cosa. E si affida poi a un decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sottoposto ad alcun controllo, preventivo di legittimità, il compito di darne attuazione, capiamo benissimo che l'equilibrio, la garanzia, la valutazione di proporzionalità non può essere rimessa a una persona sola, perché su quei DPCM il Parlamento non effettua alcun tipo di controllo. Penso anche alla questione dell'obbligo delle mascherine. Allora, noi nel decreto legge del 7 ottobre 1 a 20, numero 125, abbiamo due formulazioni diverse sulla questione delle mascherine. Abbiamo l'articolo 1,1 che dice obbligo di portarle con sé con possibilità di prevedere l'obbligo di indossarle. Ma possibilità di prevedere l'obbligo di indossarle non significa obbligo di indossarle. Lo stesso decreto legge, alcune disposizioni normative successive, l'articolo 5,1, formula la misura di contenimento dicendo obbligo di portarle con sé e obbligo di indossarle, tranne alcune eccezioni. Quindi quale delle due formulazioni vale? Quella dell'articolo 1,1 o quella dell'articolo 5,1? Il DPCM del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato da quello del 18 ottobre, aderisce alla seconda formulazione. Quindi obbligo di portarle con sé e obbligo di indossarle. Ma scusate, se da una parte è giusto tutelare la dimensione collettiva della tutela della salute, è anche vero che ci sono degli studi, siccome medici e siccome la scienza è sottoposta al principio popperiano della falsificabilità, che dimostrano che un uso prolungato può avere degli effetti dannosi, degli effetti collaterali. È notizia di qualche giorno fa che un bambino in classe, a causa dell'uso prolungato della mascherina, è addirittura svenuto. Allora, se sono tollerabili dei sacrifici sulla salute individuale, la Corte è chiara, la Corte Costituzionale è chiara, questi sacrifici devono essere ovviamente limitati nel tempo e gli effetti devono essere degli effetti controllabili. Se io mi trovo in una situazione per cui un bambino addirittura sviene durante la lezione perché ha un utilizzo prolungato della mascherina, c'è qualcosa che non funziona. Perché a quel punto lì la dimensione collettiva mi va a comprimere la tutela individuale della salute. Allora, dove sta la proporzionalità? Ecco, a me pare che, a differenza di altri ordinamenti, il nostro ordinamento non contenga questo doveroso bilanciamento tra interessi collettivi e interessi individuali. E questo è pericoloso, è pericoloso per la tenuta del sistema, ma anche per la garanzia degli stessi diritti fondamentali della persona umana. L'obbligo della mascherina, che cos'è? È un trattamento sanitario, non coercitivo, ma è obbligatorio, un trattamento preventivo se volete. Benissimo, ma siccome tutti i trattamenti sanitari obbligatori devono essere previsti da disposizione di legge e non possono mai ledere la dignità della persona umana, la dignità è l'essenza di un uomo, è la sua proiezione interna all'esterno, ma è la sua essenza interna. A maggior ragione, qui bisognerebbe dire che siamo in presenza di una riserva di legge formale, per cui è escluso qualunque intervento del governo. Qui, semmai, sarà il Parlamento che doveva intervenire a modulare in maniera proporzionale e bilanciata l'obbligatorietà della mascherina, per quanto tempo, la durata e fino a che punto questa in qualche modo poteva arrivare a sacrificare la tutela individuale della salute, che è sempre tutelata dall'articolo 32. Quindi anche il fatto di utilizzare un decreto legge per imporre queste forme di trattamento sanitario obbligatorio, non coercitivo, dal mio punto di vista viola una riserva di legge formale che è insita nell'articolo 32, perché se questi trattamenti sono previsti ma non possono ledere la dignità della persona umana, è ovvio che quando hai davanti la dignità di ogni uomo e di ogni donna, la dialettica parlamentare, il confronto tra una maggioranza e una minoranza, diventa fondamentale, è insito nelle democrazie contemporanee. Non può essere relegato a un atto del governo e poi trovare attuazione attraverso un atto amministrativo non sottoposto ad alcun controllo preventivo di legittimità. Cioè noi stiamo arrivando e veramente mi avvio la conclusione a quello che un collega che stimo dell'Università di Cassino dice è il paradigma della non libertà. Cioè lo Stato di diritto per cosa si caratterizza? Un attimo un problema con il collegamento. Sentito. Ecco, professore non si era sentito gli ultimi 5 secondi, se può ripetere l'andato via. No, dicevo, condivido la posizione di un collega dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che è il professor Vincenzo Baldini con cui ho ragionato su questi temi il quale giustamente nei suoi scritti dice stiamo assistendo all'affermarsi di un generale sempre più consolidato principio di non libertà dove la libertà è relegata a degli spazi interstiziali e questo non è tollerabile in uno Stato di diritto. Non è possibile che in uno Stato di diritto sia scritto, è consentito, è possibile. Tutte queste formulazioni come per dire la regola generale è la non libertà e poi ci sono delle eccezioni. Ma non funziona così, non funziona così, non può funzionare così. Voglio dire, siamo tanto a criticare sistemi iperpresidenzialistici o che hanno degli elementi di autoritarismo come quelli della Federazione Russa. Bene, la Costituzione Russa del 1993 con le modifiche da ultimo quella del marzo del 2020 è molto più garantista della nostra, non solo perché costituzionalizza lo Stato di emergenza, ma questo lo fanno anche altre Costituzioni, ma perché prevede un limite, cioè che lo Stato di emergenza, alcuni diritti fondamentali, supremi della persona umana, non possono essere né limitati né compressi. Poi sta ovviamente al buonsenso e alla responsabilità delle cittadine e dei cittadini utilizzare insomma le forme, le modalità per evitare contagi o comunque evitare una diffusione dell'agente patologico. Addirittura in Russia, che tanto accusiamo di autoritarismo, però è molto più garantista del nostro ordinamento costituzionale. Ma la stessa Ungheria, quando Orban ha chiesto i poteri è passato attraverso una dichiarazione del Parlamento, eppure l'Ungheria è sotto osservazione dall'Unione Europea per la violazione dello Stato di diritto. Se il modello allora è Conte, insomma invito i Paesi dell'Unione Europea e non solo a prendere forse dei modelli rispetto a Conte. Le faccio un'ultima domanda e poi la lascio perché so che devo scappare. Lei prima parlava di proporzionalità. La Costituzione deve sempre capire, bilanciare quale sia il vantaggio e lo svantaggio rispetto ad una scelta, senza mai sacrificare completamente un punto di vista rispetto ad un altro. Questo lo sappiamo anche noi giornalisti perché tra il diritto ad informare e quello a non diffamare si rimane sempre, si cammina sempre su un filo. Questo dovrebbe valere a maggior ragione anche nel caso di questa emergenza. Ora, considerato che perfino l'OMS ci ha detto che il tasso di letalità di questo virus non è molto superiore a quello di una normale influenza, considerato che oggi Massimo Fini sul fatto diceva giustamente che stiamo rinunciando a vivere, che mai nella storia, neppure di fronte alla peste, si sono prese delle scelte così gravi come il coprifuoco, è legittimo ritenere che tutta la narrazione che è stata costruita dai media, su un piano internazionale naturalmente, non solo in Italia, sia obiettivamente sproporzionata rispetto al reale pericolo. Cioè se noi di fronte ad una influenza più grave che produce, ci diceva Giorgio Palù, peraltro ordinario a Padova, ci diceva che nell'arco di 3-4 volte è più letale questo virus rispetto a quello di una banale influenza. Noi prendiamo delle posizioni così gravi, se dovesse mai tornare la peste manzoniana cosa faremmo? Ecco ci si domanda, è proporzionale quello che si sta facendo in relazione al pericolo o siamo tutti dentro una grande isteria di massa? Se dovesse tornare la peste manzoniana non oso pensare a quello di cui proprio parlava Manzoni che tocca le mura del Duomo di Milano e viene ucciso dalla folla perché viene ritenuto un untore, non vorrei arrivare a questa situazione. Ma io credo che, allora, negare la gente virale credo che non abbia senso, che ci sia questo virus è fuori discussione. Il fatto che però c'è una narrazione mediatica che sta in qualche modo puntando molto sulla parte più, diciamo così, sensibile dei cittadini, che è la sopravvivenza, che è la vita, questo porta a vivere in un clima di paura, in un clima di sospetto e in un clima in cui, come proprio diceva Agaben che citavo prima, la gente è disposta a rinunciare a tutto, ad accettare acriticamente e supinamente un modo di gestire l'emergenza sanitaria che dal mio punto di vista non è proporzionato, perché è giusto limitare dei diritti costituzionali quando c'è di mezzo la tutela collettiva della salute. Questo è fuori discussione. Però non si può arrivare al punto, in alcuni casi, di comprimerli in maniera assoluta. Vi faccio un esempio. Durante la fase del lockdown noi abbiamo visto la sospensione, sospensione, di tutte le funzioni religiose. Non parlo solo delle celebrazioni cattoliche, anche di coloro che professano fedi diverse e distinte da quella cattolica. Cioè cosa sta facendo? Cosa ha fatto il decreto legge e poi il DPCM? Poi c'è stato il protocollo su cui anche là si potrebbe discutere perché c'è una violazione del concordato, soprattutto per le messe cattoliche. È arrivato a precludere in maniera totale, in maniera assoluta, senza cioè assicurare, come la Corte lo definisce, quel minimo di operatività del diritto, che è l'esercizio della libertà di culto in luogo pubblico. L'articolo 19 della Costituzione è vigente, è chiaro, ciascuno può professare, non solo in privato, ma anche in pubblico, la propria fede, quindi attraverso la partecipazione del culto, propagarne le idee, eccetera. Se io sospendo totalmente le funzioni religiose, io qui ho davanti l'articolo 1,2, lettera H del decreto legge 25 marzo 2020 numero 19, prima che entrasse in vigore, ad esempio, il protocollo, parla proprio di sospensione delle cerimonie civili e religiose, parlava di limitazioni poi dell'ingresso nei luoghi di culto. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io sospendo, se sospendo il culto di qualunque fede, io sospendo la dimensione della proiezione dell'individuo pubblica del culto stesso, e quindi la sua possibilità di professare la fede. Ecco, un diritto di questo tipo in Russia, ad esempio, sarebbe intoccabile, neppure in un caso di stato di emergenza, neppure durante la guerra si precludeva le persone di andare in chiesa. Noi siamo arrivati a questo tipo di situazione, peraltro accettata anche da parte delle stesse autorità ecclesiastiche. Faccio questo esempio, ma si potrebbe citarne altre, insomma che hanno inciso sulla libertà di iniziativa economica, sull'attività di impresa. Ho citato questo perché me ne sono occupato, insomma è la palissiano. Quindi io credo che negare il contagio non sia assolutamente corretto, bisogna prendere atto di una realtà che c'è. Quindi nessuno di noi qui è negazionista. cercare di portare a una maggiore ponderazione, a un maggiore equilibrio tutta questa gestione, tenendo conto poi che la maggior parte dei positivi che vengono rilevati è asintomatica, e quindi dicono i medici, correggetemi, forse voi avete più informazioni di me che non trasmettono, non sono idoni a trasmettere la patologia, le terapie intensive nella loro totalità non sono sature, sono al 7-9%, mi domando se questa situazione è tale da giustificare delle misure così restrittive come il problema dell'ultimo di PCM, dove si arriva l'assurdo? Per cui, allora, sono sospesi i congressi, sono ammesse le riunioni private, il problema è cos'è il congresso e cos'è la riunione privata, è uscito oggi una circolare del Ministero dell'Interno che chiarisce il di PCM, ma siamo alla follia, dove fa degli esempi, le assemblee di condominio sono riunioni private, quindi è consentita la riunione anche se sarebbe opportuno farle a distanza, cioè un atto amministrativo dà attuazione a un decreto legge che dovrebbe contenere delle misure immediatamente applicabili, lo stesso di PCM non tipizza le situazioni e addirittura arriviamo a una circolare del Ministero dell'Interno che va a chiarire quello che c'è scritto nel di PCM di qualche giorno fa. Ovviamente la circolare non chiarisce nulla, fa semplicemente alcuni esempi, quindi così utilizzo un linguaggio esemplificativo, lasciando molti dubbi e molte perplessità. Se questo è uno stato di diritto e se questo è il modello che devono guardare gli altri stati, guardate, non guardate all'Italia, non guardate a Conte, guardate ad altri modelli. Mi pare la degna conclusione di questa interessante intervista, grazie Professor Trabucco per essere stato con noi, speriamo di riaverla presto ai nostri microfoni. Grazie, molto volentieri, grazie a voi, un caro saluto a tutti e buon lavoro, grazie. Bene, cari amici di Ivox Italia TV, si conclude qui questo nostro approfondimento, non perdiamo mai il senso critico, non diamo mai tutto per scontato, non mandiamo mai il cervello all'ammasso, insomma noi come cittadini abbiamo il dovere sempre di ragionare sulle cose che ci vengono dette, di usare le nostre possibilità, non soltanto intellettuali, ma anche i nostri diritti, per far sì che mai nessuno possa cavalcare la paura per imporre un sistema di potere oligarchico e fondato non sul diritto, ma sull'arbitrio. Il compito di Ivox Italia TV è anche questo, fare luce dove gli altri vogliono che resti l'ombra. Per farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché non abbiamo editori, non ne vogliamo, non prendiamo pubblicità, non ci paga nessuno, ma nessuno può dirci quello che dobbiamo o non dobbiamo dire, possiamo o non possiamo fare. La nostra ricchezza e la nostra libertà e vi assicuro che non è poco. Se voi gradite questo modo di fare informazione, sosteneteci, lavoreremo per voi, imporremo insieme un nuovo e migliore modello fondato sul pensiero critico e non sull'obbedienza bovina. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.